Non sarà così ma si farà Festival Settembre Prato e Spettacolo che torna con la sesta edizione dopo lo stop del 2020. Un'edizione all'insegna di tutti i protocolli necessari alla tutela della salute che diventa in ogni caso un piccolo ritorno alla quasi normalità con i concerti in Piazza Duomo che sono ormai parte della tradizione del Settembre Pratese. In cartellone ci sono Willy Pejote il 2. La rivelazione dell'ultimo festival di Sanremo e già disco di platino con la pesce di Martino, il 3. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Altro si aggiungerà probabilmente ma l'anticipazione è già sinonimo di qualità e ricercatezza. I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma Ticket One. Il sindaco Biffoni e l'assessore alla cultura Mangani parlano di segnale di ottimismo. Ne abbiamo bisogno tutti, un appuntamento che è una ripartenza particolarmente importante per il mondo dello spettacolo e delle tante professionalità che vi lavorano. I concerti e gli spettacoli saranno adattati ai protocolli utili a prevenire il contagio da coronavirus, posti esclusivamente a sedere, suddivisi in tre settori, distanziati e assegnati al momento dell'acquisto del biglietto che sarà digitale e che conterrà anche l'indicazione del punto di accesso alla piazza così da evitare code agli ingressi.